La scuola non è solo interrogazioni, libri, la scuola è un modo per imparare divertendoci. Io sono il primo istituto comprensivo dalle elementari e mi ha offerto tanta cultura, imparare divertendoci allo stesso tempo, diventare la mia classe infatti come una famiglia dove tutti ci vogliamo bene e quando abbiamo bisogno ci aiutiamo uno con l'altro. Ci ha insegnato a vivere nel modo migliore, ha insegnato anche lavorando e vivere i nostri giorni più tranquillamente, aiutandoci anche a essere felici quando noi abbiamo bisogno, i professori ci sono sempre, anche i compagni come ha detto il mio compagno Angelo, siamo una famiglia. Ci aiutiamo nel momento del bisogno, sempre. Angelo, tu vivi qui in questo quartiere? Sì. Come hai visto cambiare il quartiere grazie alla scuola? Allora, grazie alla scuola molte persone che magari prima non avevano una cultura vera e propria, sono state raccolte, sono state educate e gli è stata insegnata qualcosa che non tutti magari hanno, dei valori che sono degni di essere chiamati tali. Io racconterei il quartiere in cui vivo in diversi modi, racconterei sia alle persone che purtroppo non hanno avuto la fortuna di poter nascere fortunati e magari nascere in una famiglia in cui non danno molta importanza alla cultura e ci sono ovviamente anche le famiglie in cui, delle belle famiglie in cui i ragazzi sono fortunati e possono crescere con una bella cultura. Questa scuola si è formata a 360 gradi sia emotivamente che culturalmente. Matilde, Angelo, Carla, Gioele e Ludovica, volti puliti che raccontano il cambiamento di un quartiere difficile come Albani Roccella, attraverso la scuola, l'insegnamento, le classi che sono diventate famiglia. Cultura è un termine ricorrente nei loro discorsi e certo, nessuno lo nega, è estremamente difficile parlare di cultura nelle periferie delle nostre città perché prima di trasmettere il sapere occorre spogliarsi di ciò che si è, sporcarsi col fango della dura realtà che si ha di fronte e cercare di ripulire delicatamente i volti degli allievi, incolpevoli delle situazioni che si trovano a vivere. Insegnare in periferia significa rileggere la Montessori e comprenderla profondamente per poi metterla da parte e correre tra le braccia di Pasolini e Don Milani. Non è facile insegnare nelle periferie perché occorre mettersi in discussione, sgretolarsi e nascere di nuovo, guardando in faccia le contraddizioni della società, mentre si cerca di dare una speranza a chi spesso non sa cosa sia prospettiva. La scuola di periferia è perciò prima di ogni cosa scommessa in ribellione perché i diritti che non sono scontati vanno afferrati a qualunque prezzo. Lo scopriamo attraverso il racconto di Rosalba Marchigiana, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Don Bosco che abbraccia diversi plessi nei quartieri della periferia nord della città. Una scommessa partita da insegnante proprio nell'Istituto di Albani Roccella e che adesso sta diventando realtà. Io ho lavorato in questa scuola come docente tanti anni fa, prima di svolgere la professione in altri istituti, in altri gradi di scuola. Però quando sono andata via da questo istituto come maestra, ho detto a me stessa mi piacerebbe poter ritornare in questa scuola, qualora dovesse un giorno diventare dirigente scolastico, per garantire soprattutto stabilità. Mi dispiaceva che questo fosse un luogo di passaggio per i tanti dirigenti che si erano avvicendati e quindi come succede sempre quando una nave non ha un occhiero stabile rischia di andare facilmente alla deriva. Periferie e fallimento formativo hanno spesso conosciuto una lunga e complessa vita in comune che continua nei nostri giorni. E nelle periferie povere che da sempre si concentrano assenze, bocciature, abbandoni, mancati diplomi e la diminuzione delle attese che nella vita di ognuno questo produce. Un trend che qui ad Albani Roccella è stato invertito. Sposare un impegno così importante in una zona di periferia per scardinare stereotipi, per smontare pregiudizi, per dare fiducia ai ragazzi, per costruire insieme a loro un progetto di scuola è stata una sfida. C'è questa mentalità, questo luogo comune che per esempio anche questo stesso plesso abbiamo faticato tanto a renderlo. Noi lo abbiamo ereditato con due classi, una classe e mezza. Adesso in questo istituto ci sono più di 350 alunni con 16 classi tra alimentare e media, più c'è la sezione primavera, l'infanzia. Quindi l'abbiamo riempita totalmente e abbiamo ancora spazio per poter riempirlo. Lo so, il luogo comune porta a far pensare alle persone che la scuola di periferia è una scuola che ha problemi. Certo i problemi non mancano, ma credo che i problemi nelle scuole ci siano ovunque. Però io invito le persone a venire a vedere quello che abbiamo noi realizzato qua e quello che è diventato questo quartiere anche per merito della scuola. I primi passi della rivoluzione gentile di Albani Roccella nascono proprio dai più piccoli. I bimbi che adesso frequentano la sezione primavera, la prima in città, creata nel lontano 2014. È stata una sfida non indifferente credere nella possibilità in un quartiere periferico di porre attenzione, accendere un faro sui servizi relativi alla primissima infanzia. Sono servizi pubblici e assolutamente gratuiti che nella nostra città mancano. Ho intercettato un bisogno perché non mi piaceva l'idea che si parlasse sempre delle città del nord, delle città metropolitane dove questi servizi esistono. Quindi è stato un mio impegno personale e devo dire che questo bisogno è stato intercettato e ha avuto un riscontro notevole perché abbiamo accolto con un progetto educativo valido bambini piccolissimi che provengono dalle diverse parti della città. Quindi è stata una sfida che nel tempo è cresciuta perché abbiamo iniziato con appena 15-20 bambini ma adesso siamo oltre 120 persone che si avvicinano a questo progetto e questo ci ha permesso di avere dei riconoscimenti ministeriali anche importanti, non indifferenti. Un ultimo è il riconoscimento del Ministero della Famiglia che ha finanziato il progetto per la costruzione di un centro per la prima infanzia assolutamente gratuito. La crescita dell'Istituto Don Bosco è rappresentata dal simbolo della scuola che campeggia sulle pareti, sulla carta intestata e sulle magliette degli studenti. Un albero i cui frutti sono i bambini. Queste vogliono essere le radici che affontano nella conoscenza. Questo albero produce bambini sereni ma è un luogo accogliente dove poter alimentare il seme della conoscenza che è ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Si è parlato in questo periodo forse a sproposito di dati della dispersione scolastica con la città. Si è parlato di capitale della dispersione scolastica. Da dirigente che vive un quartiere che in effetti della dispersione scolastica ha risentito parecchio, che cosa ci può dire? Questa è stata la mia sfida principale da dirigente scolastico. Ripeto, è un contesto che conosco bene, che ho conosciuto da insegnante. E quindi ho detto il dirigente scolastico quale compito può svolgere se non quello di fare in modo che il proprio impegno possa essere tangibile in un risultato oggettivo. E quando abbiamo iniziato questo percorso il tasso di dispersione era alto. Era alto proprio perché mancava questo elemento di aggregazione e di fare in modo che il contesto scolastico potesse essere un luogo nel quale i ragazzi possono trovare un'opportunità e dove poter andare in qualunque momento. Quindi ho invertito la rotta, ma io credo che sia quello che cerchiamo di fare un po' in tutti gli istituti scolastici della città. Cioè invertire la rotta nel aprire le porte, costruire soprattutto bellezza e fare in modo che la bellezza possa essere costruita, potesse essere costruita dagli stessi ragazzi. E di simbolo in simbolo arriviamo al murales che raffigura Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che da pochi giorni danno il loro nome proprio al plesso di Albani Roccella. Non mi sarei mai permessa di avanzare una richiesta e profanare i nomi dei giudici Falcone e Borsellino se non ci fosse un percorso di legalità che è stato costruito. Quindi è una sorta di riconoscimento in qualche modo ai ragazzi e al progetto di scuola che assieme agli insegnanti hanno costruito trasformando questo edificio in una cittadella educativa, in un'isola felice all'interno di un contesto che spesso è abbandonato da tutti ma che ha un cuore pulsante, che è il cuore dei ragazzi che all'interno di questo edificio hanno trovato un'opportunità e hanno trovato soprattutto degli occhi disposti ad entrare nella loro personalità per fare di loro dei cittadini dei cittadini, non dico modello perché perfetto non è nessuno, ma con della testa sulle spalle. E nella cittadella educativa è fondamentale incrementare l'offerta formativa e le occasioni di sviluppo culturale e artistico. I ragazzi hanno il diritto di sviluppare, scoprire e realizzare le proprie attitudini e le proprie capacità. Per questo serve proporre attività che favoriscono la partecipazione della comunità e la valorizzazione degli spazi di aggregazione. Da qui nascono i laboratori di teatro, di musica, di lettura e di informatica, fino a quello che è diventato il vero polmone educativo della scuola, il laboratorio creativo da cui vengono fuori tutti i lavori dei ragazzi, ma non solo. Questo è un luogo dove i ragazzi possono chiedere di entrare in qualunque momento. È un laboratorio artistico, è un nostro atelier recreativo, però è anche un luogo in cui i ragazzi possono dare sfogo alle loro attenzioni personali, trasformandola in qualcosa di costruttivo e di produttivo. Quindi ognuno qui scopre le proprie potenzialità, sviluppabilità e attraverso la presenza di insegnanti che accompagnano appunto questo percorso, i ragazzi si aprono ad un dialogo personale che permette loro di trasformare quella che potrebbe essere una distrazione, un'energia negativa in qualcosa di costruttivo. Negli anni la scuola ha però avuto i suoi problemi strutturali. Recentemente un'infiltrazione ha causato il cedimento di un controsoffitto che ha provocato l'inibizione di alcune classi. Questo è un mio grande dispiacere perché a fronte di tutto ciò che abbiamo costruito e del valore che attribuisco alla scuola, non riesco a capire come sia possibile che a fronte di richieste reiterate non ci sia un intervento immediato ed incisivo. Io capisco che questo anno eccezionale di pandemia probabilmente ha assorbito tutti gli impegni e le risorse dell'amministrazione in un altro campo. Quindi voglio pensare, ipotizzare che possa essere questo. Io però in linea con l'impegno che ho preso con me stessa, con i ragazzi, con anche il valore della intitolazione, non potevo permettere che un plesso che porta il nome Falcone Borsellino potesse rischiare di rimanere chiuso per assenza di interventi. E qui i lavori sono stati fatti, ci sono dei lavori in corso, quindi il problema è stato risolto, qualcuno è intervenuto. Ci siamo dati da fare da soli, quindi ho cercato una ditta, ho cercato finanziamenti soprattutto per intervenire. Perché ho detto a me stessa, il problema si è verificato i primi giorni di dicembre, quindi nessuno dei ragazzi per fortuna ha avuto alcun tipo di problema di sicurezza, ma ho cercato di utilizzare questo tempo di sospensione delle attività didattiche per cercare di ripristinare prima possibile, visto che c'è stata questa assenza di interlocuzione, di interlocuzione concreta, per cercare appunto di risolvere quanto prima il problema. C'è stata, devo dire, la presenza di sopralluoghi eccetera, però ecco io sono immediata, cioè io ho la necessità di intervenire subito, perché è stato un tempo morto che secondo me doveva essere utilizzato appunto per ripristinare prima possibile, perché speriamo davvero di poter ritornare presto. C'è un finanziamento importante che si aspetta dalla Regione, è stato finanziato un importo davvero importante, però io sento parlare di questo finanziamento da diversi anni, e quindi non vorrei che fosse l'ennesimo buco nell'acqua come tutti i finanziamenti che la Regione promette per questa città e che poi finiscono a niente. Si è sentita sola in questi mesi? Purtroppo sì. Dal nostro viaggio, che volge quasi al termine, viene fuori un'immagine della scuola che funziona, con gli strumenti giusti e con la volontà di chi ci lavora. Una scuola che può diventare il luogo in cui stimolare una socialità positiva. Ed è proprio ciò che accade in queste scuole di frontiera, dove docenti, dirigenti e personale scolastico accompagnano giorno dopo giorno i loro ragazzi, abbracciando le loro storie difficili, nel tentativo di riuscire a trasmettere valori e di poter offrire un futuro migliore, fatto di sogni e di speranze, e soprattutto lontano dalla strada. Chiudiamo questo viaggio da un altro punto importante della scuola, che è stato abbandonato per tanto tempo, è stato in disuso per tanto tempo, sembrava potesse rinascere a un certo punto, e invece poi è caduto un po' nel dimenticatoio. Sì, su questo ambiteatro ho cercato di accendere più volte un faro. Ci sono stati dei momenti molto belli, abbiamo fatto l'inaugurazione dell'anno scolastico, abbiamo accolto qui anche duemila persone, animando un quartiere. Tante promesse sono state fatte su questa struttura. Questo potrebbe essere, dovrebbe essere un luogo di aggregazione, non soltanto per i ragazzi che frequentano questa scuola e questo quartiere, ma per l'intera città. Abbiamo dato dimostrazione che ci è possibile farlo, perché abbiamo realizzato tanti eventi. Abbiamo festeggiato i 50 anni della scuola dell'infanzia, abbiamo realizzato la giornata dell'inclusività, ospitando bambini e ragazzi degli altri istituti, abbiamo inaugurato l'anno scolastico, abbiamo ospitato Alberto Ferro, in occasione di un evento importante che è stato realizzato per la città di Gera. Quindi tanti eventi e tanti ricordi. Purtroppo è una struttura che non può essere utilizzata tutto l'anno, perché è una struttura incompleta. L'idea iniziale che avevamo lanciato diversi anni fa, quando è iniziato questo percorso, era di sposare pienamente un principio dell'architetto Renzo Piano, il rammendo delle periferie, fare in modo che ogni periferia possa essere un centro bello, che è in grado di sprigionare bellezza. È un fiore dal quale partire, per trasformare ogni angolo sperduto in un centro.